Ennesimo sconto tra il questore di Trieste, Giuseppe Padilano, e il sindacato autonomo di polizia. Questa volta finire sotto la lente di ingrandimento dei due soggetti che scalpitano sono il vertice della Russia-Italia, perché le SAP le replica al questore. Il SAP in un comunicato scrive che al questore padulano non è bastato, l'elogio incassato dal SAP per come è stato gestito il dispositivo di sicurezza, ma vuole di più, anche se non si capisce cosa. In effetti a poco serve scapicolarsi per smentire, ennesima volta, quanto da noi affermato, pur avendo in mano i dati reali e apparendo anche in controtendenza rispetto alle affermazioni del nostro e al suo capo, Prefetto Pansa. È pacifico che in questo momento noi diamo un servizio di sicurezza inferiore al passato e che noi cerchiamo di rendere meno bassa, ma comunque meno il segno e comunque meno questa dichiarazione del Prefetto. Tornando al SAP, ad ogni buono conto, né sul comunicato SAP né sull'articolo di stampa si è parlato di vetture private, bensì di auto di proprietà di intersocietà private. Il riferimento è ai mezzi della società autostradale concesso incomodato alla polizia per i servizi nell'ambito della rete autostradale. Così recita testualmente la convenzione sottoscritta dal Dipartimento della Polizia con gli enti concessionali delle autovie, ma anche che per la prima volta si sono visti arrivare in Piazza Unita d'Italia. L'esempio ci sembra calzante perché una volta, quando uomini e mezzi erano meno scarsi, al termine del tratto autostradale, gli equipaggi avrebbero avuto il cambio da una staffetta montata su vetture della polizia. Se il fatto di necessità virtù è quello perché dei nostri elogi, ma raschiando il fondo delle barile. Circa la carenza del carburante, abbiamo segnalato semplicemente che terminata la scorta, il rifornimento delle cisterne è stato insolidamente rapido solo in virtù dell'eccezionalità dell'imminente evento, visto che negli altri anni i tempi sono stati più lunghi. Anche sulle divise abbiamo riportato un dato veritiero, veritiero, mai si è visto, almeno dagli anni Sessanta in poi, il ricorso al recupero dei capi usati per la vestizione del personale. Detto questo, vorremmo capire se sono più imprecise ed infondate le nostre affermazioni o quelle del questore padulano, le cui attenzione farebbe ne figurare la polizia è lodevole, ma non inferiore alla nostra, visto che entrambi abbiamo esaltato la capacità dell'apparato di far fronte alle esigenze. Magari il questore poteva completare il suo intervento spiegando che quel lavoro straordinario, svolto volontariamente ed entusiasticamente dal personale, potrebbe essere retribuito anche fra un anno o due. Ci sono somme del 2012 che non sono ancora giunte nelle tasche degli operatori, per esempio, parliamo di problemi che riguardano tutte le forze di polizia del paese, non le pecche della polizia triestina. Tutto questo è stato spiegato e chiarito al dottor padulano, che aveva anche disponibilità del testo originale del comunicato SAP, visto che è pubblicato sul sito carenze e disagi, quelli in questione, che il SAP denuncia da anni, che trovano perfetta corrispondenza nelle parole pronunciate solo l'altro giorno dal capo della polizia, il cui senso è stato compreso da tutti. Non vediamo il motivo quindi della puntigliosa replica voluta dalla direzione della nostra questura, insomma, un Natale che si pronuncia con i botti tra questore e SAP.